ciao ragazzi allora oggi faremo insieme un altro workout con un attrezzo nel senso che mi ci servono le pattine quelle che avete in casa banalmente se non ce le avete potete usare come me dei fogli di scottex basta che scivolino sul pavimento ok cominciamo rimettiamo con terra ok saliamo sopra con i piedi facciamo degli squat scivolando di lato con una gamba c'è la sua destra ancora quattro e cambio scimolo Avrete un pavimento pulitissimo alla fine Ancora quattro Resto il squat con tutte e due Scivolando faccio Apro, apro, chiudo, chiudo Scivolo bene Ancora due volte Ok Lascia andare Andiamo subito un sottotitino Facciamo lavorare le braccia Quindi da qui Potete stare a quattro zampe Così Oppure se volete Potete stare con il peso in avanti No, si è appoggiato a terra e il peso in avanti Come riuscite? Da qui faccio Piego un braccio ad alto allo schermo Ok? Mi giro in qua Ok? Proviamo Cinque Sei Sette E vado alternando Uno Due Tre Quattro Cinque Due Sette Otte E in avanti In avanti Un braccio Di lato Si piega con il gomito stretto Adesso Prima era largo Adesso il gomito stretto Ok? Vado sempre Sempre alle stelle macchie Un braccio In avanti E in avanti Un braccio In avanti, gomito stretto, riposo le braccia. In giro, adesso li rimettiamo ancora tutti i piedi e dobbiamo mantenere una posizione di trunk per due esercizi. Vale, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro. Facciamo otto e riposo l'altra, ok? Facciamo otto, disperiamo su planche, facciamo due esercizi. Altro otto, apro più delle gambe, sempre in grano. Quindi salvo, apro più. E riposo, ok? Gocciano l'altra, cinque, sei, sette, cammino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Recordo. Grande grazie a tutti. Si guarda bene, guarda la braccia. Trente. Cinque, sei, sette, vado. Un'altra, cinque, sei, sette, otto. Divino, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok? Ci riprendiamo. Mi siedo. Su un fianco. E allungo un fianco solo. Lavoro per dominarli alte ali, ma servendo per prendere il giro. Lavoro per mangiare il giro. Ehi, una volta in grano. Ehi, una volta in grano. Buongiorno. Ok, ci sdraiamo la pancia in giù, tenendo bene le scottex a terra, allungo le racce in avanti e scivo in indietro, ok? Sollevo il lavoro di borsali, piedi a terra. Ancora due, uno, due, un po' di attenuato, un po' di attenuato, un po' di attenuato, sempre le scottex a terra, un po' di attenuato, sempre le scottex al piede, quindi guarda che scivola verso un lato e scivola verso l'altro, spalle sempre aggiornamente sollevate. Non sforzate il collo. Allora, quattro, uno, due, tre, quattro, ok? Respiro. Vado dal lato. Vado dal lato. Vado dal lato. Respiro. Prendiamo il piede. Aggiorniamo.